Per i prossimi 5 mesi la città di Pagani sarà governata dalla Giunta e dal Consiglio Comunale ma senza la figura del Sindaco, il cui ruolo sarà ricoperto dal Vice Sindaco. A comunicarlo la Prefettura di Salerno che questa mattina attraverso l'Ufficio Stampa di Piazza Mendola ha inviato una nota agli organi di informazione con la quale annuncia che è stato avviato l'iter per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Pagani. Il tutto rapportato si legge al passaggio ingiudicato dell'ordinanza 4472 del 2019 con la quale il Tribunale di Lucera Inferiore ha accolto il ricorso promosso ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo numero 267 del 2000 dichiarando il signor Alberico Gambino decaduto ex articolo 143 del testo unico degli enti locali dalla carica di Sindaco del Comune di Pagani della quale si è preso atto con delibera consigliare ed è stato avviato pertanto l'iter per lo scioglimento. La normativa, si legge ancora nel decreto prefettizio, prevede che a seguito della pronuncia di scioglimento del Consiglio Comunale per decadenza del Sindaco il Consiglio e la Giunta Comunale rimangono in carica fino alle elezioni amministrative che avverranno nella prossima primavera e che le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Sarà dunque l'attuale Vice Anna Rosa Sessa a svolgere le funzioni di Sindaco, prima donna nella storia politica della città. La mattina il Prefetto ha chiarito questa situazione paradossale, soprattutto che si era creata nelle ultime settimane a seguito della sentenza del Tribunale di Lucera sulla decadenza del Sindaco. Restano in carica fino a nuove elezioni, Consiglio Comunale, Giunta e Vice Sindaco. Ci tocca dunque ufficialmente traghettare la città alle prossime elezioni. Lo faremo con grande stimolo, con grande condivisione, con grande partecipazione, cercando di dare delle risposte importanti al territorio, fissandoci degli obiettivi precisi. Io ne approfitto per ringraziare gli assessori, ma soprattutto i consiglieri comunali, che anche nell'ultimo Consiglio Comunale hanno dimostrato grande partecipazione e grande senso di responsabilità e proprio insieme a loro, insieme alla parte politica, decideremo cosa fare in questi prossimi sei mesi. Ma abbiamo già le idee ben chiare e definite. Noi abbiamo sempre avuto grande voglia e grande volontà, l'ho detto anche nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, non ci siamo mai sottratti alle nostre responsabilità, né tantomeno abbiamo mai smesso di lavorare per la città, nonostante i bassoni tra le ruote, nonostante, lo ricordo come se fosse ieri, il segretario generale che abbiamo trovato quando ci siamo insediati, addirittura ci diffidò nell'algire perché gli atti che stavamo facendo erano tutti nulli e addirittura a me e all'assessore Marenghi nella sua stanza disse siete malati terminali e non volete accettare la vostra malattia. Oggi si chiarisce anche questo, si chiarisce che gli atti non sono nulli, che abbiamo lavorato bene in questi mesi, dando anche delle risposte che altri in cinque anni di governo non sono riusciti a dare. Mettiamo un freno alle polemiche, mettiamo un freno alla confusione che è stata creata d'arte nella nostra città, oggi i cittadini hanno chiarezza e noi continuiamo a lavorare serenamente. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo avuto sempre fiducia nelle istituzioni, abbiamo svolto il nostro dovere dal primo giorno che siamo stati qui insediati al Comune e oggi è arrivata la certezza che l'attuale amministrazione reggerà fino alle elezioni che saranno indicate quindi in primavera. L'aggiunta con le funzioni, capo al vicesindaco che sarà il sindaco facendo le funzioni proprio, insieme all'aggiunta reggerà la parte amministrativa di questo Comune e c'è il Consiglio Comunale con il Presidente del Consiglio che procederà ai lavori che saranno svolti in questi mesi. A chiarirci polemiche basta, diciamo con questo veramente basta, oggi tutti insieme diamoci da fare come noi, invito anche l'opposizione a rendersi partecipe della vita amministrativa per dare risposte alla città che ha tanto bisogno di lavorare. Grazie 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 Grazie